Calcio Mercato inizia un'altra settimana per le due abruzzesi di Serie C, Pescara e Pineto, e per conoscere le ultime trattative in studio c'è Massimo Profeta, che saluto. Ciao Massimo. Buon poveriggio a te e a tutti gli amici di misura d'ascolto. Partiamo naturalmente dalla Pescara che ha ceduto, mancano solo i rispettivi annunci. Raffia al Lecce, l'operazione da 1,2 milioni di euro, base fissa, 600 mila euro più bonus facilmente raggiungibili. Si arriverà dunque a 1,2 milioni di euro con il Pescara che conserva il 15% sull'eventuale rivendita futura del Franco Tunisino, che ricordiamo un classe 99 ha compiuto quest'anno 24 anni, 11 assist ed un gol con la maglia del Pescara. Sicuramente un talento, un giocatore di grande qualità ma di scontino. C'erano sul Raffia diversi altri socializi. Paolo, per esempio, era fortissimo fino a ieri sera il Venezia, che però non ha potuto compiere questa operazione, non avrebbe potuto compierla in tempi brevi, servono almeno 15-20 giorni all'ADS pescarese. Filippo Agomeri Antonelli, che abbiamo ascoltato, abbiamo sentito in questi giorni, perché c'erano diversi giocatori in esubero, era forte anche la Ternana, che avrebbe offerto di più rispetto al Lecce, ma c'è una situazione di incertezza a Terni. Non è stato ancora ufficializzato il nome del nuovo allenatore, non c'era sicuramente il Genoa. La Sampdoria sembrava interessata, visto che Pirlo ha allenato questo ragazzo al Juventus, però poi la Sampdoria ha optato per maestro, ex Biancazzurro, e ha ripreso Verre, che è un altro ex Biancazzurro a cui è legato un ricordo eccezionale. Tutti ricordano la promozione in A con il Trapani, contro il Trapani la stagione di Massimo Oddo nel 2016, un grandissimo gol al Comunale di Trapani. Diciamo che queste erano le società più interessate, c'era anche il Catanzaro, ma alla fine ha deciso il giocatore, ha optato per la Serie A, e infatti il Lecce, che si è salvato quest'anno, lo scorso anno con Baroni in panchina, si è affidato a Roberto D'Aversa, pescarese, che ha seguito tantissimo Raffià in queste settimane, prima ancora di essere ingaggiato dalla Lecce, lo ha seguito negli allenamenti, lo ha seguito nelle partite, visto che ha avuto la possibilità. Dunque c'è stata anche la volontà, soprattutto di D'Aversa. Ripetiamo, 600 mila euro base fissa, più bonus facilmente raggiungibile per arrivare a 1,2 milioni di euro. Raffià sta per firmare un contratto di tre anni con opzione per altre due stagioni. Per quanto riguarda invece le altre trattative c'è da dire che, per esempio, in attacco bisognerà valutare Vergani. Zevano, l'abbiamo già detto in tante occasioni, crede ciechemente nelle qualità di questo ragazzo, vuole vedere come risponderà Vergani in questa prima fase del ritiro. Se Vergani dovesse restare potrebbe comunque arrivare un'altra punta. Cristian Tommasini, se ricordi bene Paolo, ne avevamo parlato proprio sabato, tra l'erdì e sabato, Cristian Tommasini ha 25 anni, ha fatto molto bene quest'anno nel Taranto, 8 gol in 31 partiti, di cui due segnati proprio contro il Pescara, l'andata è al ritorno e di proprietà del Pisa. Però bisognerà aspettare questa prima fase della preparazione, prima di eventuali decisioni che saranno prese dal sudalizzo biancazzurro e soprattutto dal tecnico Boemo. Russini, altro esterno di cui si è parlato tantissimo in queste settimane, esterno in uscita dal Padova, arriverà solo se andrà via Colai, però anche in questo caso Zeman vuole valutare bene Colai, crede tantissimo anche in questo giocatore, quindi bisognerà aspettare. Per San Nipoli c'è una grande distanza tra Latina e Pescara, anche in questo caso bisognerà aspettare. E poi invece possiamo dire ai nostri telespettatori, che ci seguono sempre, che ormai è in dirittura l'operazione per Antonino De Marco, che è un classe 2004, lo scorso anno ha giocato nella Vibonese, allenata da Giacomo Modica, che ha proprio consigliato questo ragazzo di belle speranze, di prospettiva, soltanto 18 anni, proprio a Zeman, di cui è stato giocatore nel Messina, lo ricordiamo, nel 1988-89 in Serie B, ma è stato anche suo collaboratore tecnico. Tra l'altro Modica, insomma, conosce bene l'Abruzzo perché ha allenato sia il Celano, soprattutto, e che l'Aquila. Modica è stato nominato allenatore della Messina. Antonino De Marco sta per diventare Biancazzurro, tra l'altro ha anche fatto il Viareggio quest'anno con il Torino. Può giocare sia da mezzala, ma può essere anche utilizzato da vertice basso in un centrocampo a tre. Questo per quanto riguarda il centrocampo, però attenzione, il Pescara deve anche affiancare un terzino destro a Pierno, perché manca, come si suol dire in gergo, la coppia. Ebbene, è vicinissimo l'ingaggio di Edoardo Pierozzi, classe 2001, 22 anni da compiere, di proprietà della Fiorentina. Il ragazzo vuole giocare con il Pescara, vuole essere allenato da Zeman, lo ha già detto i dirigenti Biancazzurro. C'è solo un ostacolo che è rappresentato dall'ingaggio domani, la giornata decisiva con i dirigenti del Club Viola. Per quanto riguarda invece il Pineto, e concludiamo, è stato ufficializzato un giovane difensore, Lorenzo Villa, di cui si è parlato nei giorni scorsi, classe 2003, scuola Inter di proprietà della Sampdoria. Arriverà in prestito secco e poi sta per arrivare anche Ingrosso, che in questi giorni, in questi primi due giorni, non ha partecipato al ritiro con i Biancazzurri di Zeman, proprio perché sta sistemando tutte le cose per poter dire sì al Pineto, ma non ci sono problemi.